Era chiusa dal 2019, ha riaperto i battenti questo fine settimana la piscina al Lido di Carciano di Stresa, piscina con ovviamente Lettini e poi la spiaggia sottostante. Sì, come amministrazione siamo molto contenti di essere riusciti finalmente dopo anni a ridare alla città questa struttura, quindi piscina, spiaggia attrezzata ma anche spiaggia libera per chiunque volesse venire col proprio asciugamano a godersi della vista e farsi un bagno in questa splendida cornice. In questi anni avete promosso anche degli interventi strutturali? Sì, quando siamo stati eletti la piscina era già chiusa da un paio di stagioni e aveva bisogno degli interventi, c'erano stati delle infiltrazioni d'acqua, c'erano da fare diversi lavori. La scelta dell'amministrazione fu quella di sistemarla e darla in ordine, quindi abbiamo provveduto noi a fare i lavori, poi abbiamo fatto un bando e finalmente abbiamo trovato i nuovi gestori a cui facciamo veramente i migliori auguri perché possa essere una stagione che dia soddisfazione anche a loro e ci auguriamo che ci sia una bella sinergia anche tra gli stresiani, fruttori di questa bella struttura e i gestori. Perché per i turisti ma ovviamente anche per i residenti a Stresa che nel weekend o comunque nel tempo libero possono venire qui? Assolutamente sì, quindi una piscina che è un'offerta per tutti.